La parola cultura che riassume il senso storico della nostra nazione, perché l'Italia è ben anteriore alla sua nascita come Stato, a una cultura millenaria che promana dalla Magna Grecia, che passa attraverso il rinascimento e l'umanesimo. Ieri ho citato Dante Alighieri e Giacomo Leopardi, che sono due figure a me molto care, e una delle prime cose che farò è andare nella fondazione che fu la casa di Benedetto Croce.